Si è ricordato sabato 10 aprile il 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per il secondo anno consecutivo a causa dell'emergenza Covid, anche a Pesaro la cerimonia pubblica ha lasciato posto ad un momento di raccoglimento più composto, con la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti della Polizia di Stato presso l'ufficio personale della Questura, al cospetto del prefetto di Pesaro Urbino Vittorio Lapolla e del questore Michele Todisco, accompagnati da una ristrettissima rappresentanza di poliziotti. Tutte le attività di polizia del 2020 sono state rimodulate a causa dell'emergenza sanitaria. Nell'ultimo anno, da aprile 2020 al 31 marzo 2021, le oltre 9.300 pattuglie impegnate sul territorio provinciale hanno controllato oltre 88.000 persone e più di 58.000 veicoli, controlli che solo in minima parte, circa un centinaio di casi, si sono trasformati in sanzioni per violazioni alle misure anti-Covid. Diverse le manifestazioni che hanno avuto origine dall'inizio della pandemia, molte delle quali di protesta contro le chiusure imposte per la situazione sanitaria. La maggior parte dei sit-in si è svolta pacificamente e con un sostanziale rispetto delle regole, anche grazie all'impegno della Questura per gli oltre 1.100 servizi di ordine pubblico nei quali sono stati impiegati più di 7.000 poliziotti. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità, dalla lettura dei dati emerge come le misure di vigilanza abbiano determinato un parziale decremento delle condotte criminali. Come testimonia per esempio, il minor numero di reati contro il patrimonio e più nello specifico il dato dei furti, quasi dimezzato rispetto all'anno precedente. Dai 1.025 episodi registrati tra il 2019 e i primi mesi del 2020 si è passati ai 609 dell'ultimo anno, con una conseguente diminuzione anche del numero di arresti e di denunce. Meno borseggi, scippi e furti in abitazione o su autovetture dunque. Mentre risulta ancora significativa l'attività di prevenzione legata ad atti persecutori e di violenza di genere, causati anche dalla forzata convivenza domestica. 15 le misure cautelare eseguite, fra divieti di avvicinamento o allontanamenti dalle case familiari. Numerose operazioni di polizia sono state portate a compimento anche per il contrasto al traffico di stupefacenti. In tale contesto allarma l'esponenziale aumento dei sequestri, registrato nell'ultimo anno, di quelle che vengono chiamate droghe leggere, con oltre 2.300 grammi di marijuana sequestrati a fronte dei 435 del periodo relativo all'anno precedente. Sempre nel periodo compreso tra aprile 2020 e marzo 2021, l'ufficio immigrazione ha gestito le pratiche relative alla consistente popolazione di stranieri residenti in provincia, oltre 21.000 persone, rilasciando circa 6.000 permessi di soggiorno. Sono stati inoltre messi una settantina di provvedimenti di espulsione. Grande il lavoro anche dell'ufficio sanitario e della questura di Pesaro Urbino, che ha dovuto garantire il massimo livello di sicurezza per tutto il personale.